La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbis nonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla seconda guerra mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziamo a utilizzare l'energia atomica non come arma, ma come fonte di energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici. Automobili a fusione. Computer portatili. Però, nel ventunesimo secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. E ho paura. Per me. Per mia moglie. E per mio figlio. Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra. La guerra non cambia mai. E per me. Per mi. Grazie.